MicroCatLife offre una ricerca rapida e intuitiva e funzioni di filtro associate ai più recenti dati ricambi per garantirti sempre la selezione dei ricambi corretti. Una volta identificato un veicolo in MicroCatLife, siamo pronti per cercare i ricambi. Possiamo effettuare la ricerca per descrizioni o cliccando sulla freccia a discesa per scegliere altri criteri di ricerca. Facciamo una ricerca per descrizione con una sola parola. Digita le informazioni nel campo cerca poi fai clic sul pulsante cerca. MicroCatLife restituirà i risultati. Ora abbiamo la possibilità di utilizzare il filtro dinamico. La nostra ricerca principale si basava sulla parola sensore, ma quale tipo di sensore? Ad esempio un sensore di livello oliomotore. Non appena inizio a digitare, noterai che i risultati diminuiscono fino a quando non resta il risultato specifico che cerco. Nei risultati di ricerca abbiamo informazioni quali il numero di ricambio e la quantità. Una nuova e ottima funzione di MicroCatLife è la ricerca con parole multiple. Digita di nuovo le informazioni nel campo cerca poi fai clic sul pulsante cerca. MicroCatLife restituirà i risultati. Possiamo anche effettuare una ricerca per PNC. Seleziona PNC e digita il tuo PNC nel campo cerca. Clicca sul pulsante cerca. MicroCatLife restituirà i risultati. Una funzione unica di MicroCatLife è la possibilità di eseguire una ricerca con PNC multipli. Digita le informazioni nel campo cerca lasciando un spazio tra ciascun PNC. Poi clicca sul pulsante cerca. MicroCatLife restituirà un numero di ricambio per ciascun PNC che hai inserito. Quando vuoi visualizzare uno dei tuoi risultati di ricerca, clicca sull'icona della fotocamera. MicroCatLife visualiggerà l'immagine evidenziando il ricambio che stai cercando e la finestra dati ricambi con tutte le informazioni rilevanti su quel ricambio. Le funzioni di ricerca intuitiva di MicroCatLife aumenteranno la tua precisione, ridurranno le opzioni di montaggio speciale e ti lasceranno più tempo a disposizione per vendere ricambi.